ehi gruppo delle mamme sono cammela mamma di santino buongiorno oggi c'è una bella novità per chi mi voglia insegnare la chitarra l'ho trovata che ce l'avevo qua nel ripostiglio perché ho detto scusa mi insegno a fare la musica così vado a suonare nel matrimonio e mi guadagno qualcosa giusto ora qua mi ha tagliato tutorial su youtube e dice prima cosa bisogna accordare la chitarra io ho toccato tutta mattina che ci dico boh non giangiri mamma non giangiri e mi pare a modo che ora sa col do perché io non la sento piangere a voi mi pare che piange sentite ma farò un poco allegra vero avanti fatemi sapere se ci devo dire ancora pocos'altro grazie avanti cominciamo ma già la sua suonare giuri 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 di tutta nulla pure i campi da sentire un barco ciao ciao ciao